Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di questo, un controller per smartphone prodotto da GameSeer, che come sapete produce controller economici ma di qualità. Il controller è liscio al tatto ma ruvido nella parte posteriore dove c'è l'impugnatura, in questo modo è resistente, ha il sudore quindi non vi scivolerà facilmente tra le mani e ha un'impugnatura abbastanza comoda. Il controller è estendibile applicando una lieve forza verso l'esterno come potete vedere ma non è presente un blocco per cui rilasciando il controller torna alla posizione iniziale. Questo gioco qui praticamente è stato fatto appunto per adattare gli smartphone di varie dimensioni al controller. Una nota dolente, se posso dirvela, è quella dell'attacco USB Type-C, che come potete vedere non è fisso, cioè non è che rimane in questa posizione, ma si abbassa facilmente. Probabilmente è per permettere l'inserimento e la rimozione dello smartphone. La disposizione dei tasti ricorda quella della Nintendo Switch, vedete? Praticamente sono identici, sia il numero di tasti sia la loro disposizione. Ovviamente gli stick analogici della Nintendo Switch sono differenti da quelli del controller GameSeer, che sono molto, no, molto, diciamo un po' più alzati. Infatti se vedete un confronto sono più messi in rilievo. Sono comodi, sono comodi, ora non aspettatevi una comodità eccellente, ma sono abbastanza comodi. Possono essere premuti e facilmente utilizzabili, quindi non vi sono problematiche, grossi problemi, insomma. Il controller, come potete vedere, dispone di una porta USB-C, cioè Type-C, che può essere utilizzata, vedremo dopo, per caricare lo smartphone mentre lo utilizzate. Il controller non è Bluetooth, non è wireless, si autoalimenta con lo smartphone, non ha una batteria interna. Quindi non è che dovete mettere a caricare il controller. Adesso vi mostro come funziona. Allora, parto con la premessa che non potete utilizzare lo smartphone con una custodia tipo questa. Forse con quelle più sottili sì, ma con questa no. Quindi rimuovete la custodia, inserite lo smartphone e estendete il controller. In questo modo lo avrete collegato. Vedete, c'è tipo un LED blu che si accende quando il controller è connesso correttamente. Ora, io ho provato il controller con diversi giochi, ma adesso ve ne mostro uno per darvi la possibilità appunto di vedere il suo funzionamento. Quindi lancio il gioco che ho testato, cioè Rayman Adventures. Appena parte, vi mostro il gameplay. Ok. Diciamo che il controller funziona perfettamente, ma ovviamente in alcune parti del gioco dovete utilizzare il touchscreen. Però una volta che iniziate a giocare potete usare tranquillamente i comandi del controller. Potete anche mappare i pulsanti con un'applicazione chiamata Octopus. Come vedete è iniziato il tutorial del gioco. All'inizio dovete usare per forza i touch, ma una volta che avete, diciamo, fatto il tutorial, potete tranquillamente utilizzare il controller. Vedete? Quindi funziona perfettamente, non ci sono problemi, è immediato, quindi non dovete fare nulla. Funziona con tutti i giochi Android che supportano ovviamente controller esterni e le piattaforme di gioco in streaming, come vedete. Avete anche la possibilità di accedere ai tasti dello smartphone facilmente per aumentare e diminuire il volume, spegnere lo smartphone e così via dicendo. Ora, come potete vedere, praticamente non è in carica in questo momento. Adesso vi mostro la questione del cavo. Collegando un cavo alla porta, nella parte sottostante, adesso vi mostro se riesco. Vedete, non è in carica lo smartphone. Collegando questo cavo qui, lo smartphone se ne va in ricarica. Vedete? Non so se adesso mette in fuoco, o meglio, mette a fuoco. Vedete? Sta caricando. Non so se riuscite a vederlo. Ma sta caricando. Quindi, diciamo in questo modo qua, mentre giocate, potete anche ricaricare lo smartphone. È una funzionalità abbastanza comoda, quanto indispensabile. Quindi, questo è tutto per quanto riguarda questo controller, che potete acquistare per ora sul sito web ufficiale dell'azienda. Grazie a tutti.